L'analfabetismo è una condizione di grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona, la quale poi diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale. Durante la Catechesi dell'Udienza Generale, Papa Francesco ha parlato ancora delle opere di misericordia, mettendo a fuoco consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. In un mondo in cui il progresso tecnico e scientifico è arrivato così in alto, risulta ancora più incomprensibile che ci siano tanti bambini analfabeti. Più cresce l'istruzione, ha rimarcato il Pontefice, ricordando quanto la Chiesa si sia spesa nei secoli in questo orizzonte e più le persone acquistano certezze e consapevolezza. Esprimere misericordia verso i dubbiosi invece equivale a lenire quel dolore e quella sofferenza che proviene dalla paura e dall'angoscia che sono conseguenze del dubbio. Tutti hanno dubbi, quelli che toccano la fede poi sono un segno che vogliamo conoscere meglio e più a fondo Dio, ma ogni dubbio deve essere superato. Andare oltre certi interrogativi vuol dire crescere e nella fede concretamente significa ascoltare la parola di Dio e vivere quello in cui si crede. L'insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere e la certezza più sicura per uscire dal dubbio è l'amore di Dio con il quale siamo stati amati. Un amore grande, questa è la grande certezza, un amore grande, gratuito, è dato per sempre. Ma Dio mai fa retromarcia col suo amore, mai, va sempre avanti, rimane lì. È dato per sempre. Questo amore di cui dobbiamo sentire forte la responsabilità per esserne testimoni offrendo misericordia ai nostri fratelli. Prima del tradizionale appuntamento del mercoledì, Papa Bergoglio ha ricevuto in udienza i partecipanti al colloquio promosso dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso con l'Islamic Culture and Relations Organization di Tehran. Grande soddisfazione è stata espressa per quanto viene fatto nel segno del dialogo, dell'avvicinamento e della fratellanza. Grazie a tutti.